Per quanto riguarda il Master degli adulti invece interverranno ben nove allenatori che non hanno certo bisogno della mia presentazione perché si chiamano Walter Zenga, Marco Baroni, Fabio Gallo, Fabio Liverani, Michele Marcolini, Sandro Pokesci, Paolo Tramezzani e l'approfondimento che terrà anche quest'anno Attilio Sorbi oltre alla finestra sul Mondiale visto che è l'anno del Mondiale che Giovanni Galli svilupperà con l'analisi tattica delle squadre che partecipano.